Abbiamo fatto un passo avanti risolvendo la questione nel mese di agosto, che era una vera emergenza, ma il problema è ancora tutto sul campo. Questa forte azione di risanamento che abbiamo messo in campo, riconosciuta da tutti a livello nazionale, come modello, è stata venificata da una sentenza della Corte Costituzionale, è assolutamente legittima dal punto di vista del merito, che io non posso certamente discutere in quei termini, ma ha avuto un effetto da togliere una diga di protezione, quindi come capita quando c'è una diga in protezione, l'acqua scende nella cittadina che sta giù, producendo dei danni. Questo è l'effetto pratico in un'azione di risanamento che aveva risolto più del 50% dei problemi, noi avevamo in questi due anni risanato più del 50% del sistema, ma ci mancavano sei mesi di tempo, la diga sarebbe dovuta rimanere in piedi per altri sei mesi, però ormai questo non è avvenuto, e qui dobbiamo ora affrontare questa tempesta perfetta, non perdendo il buono che abbiamo fatto, mettendo in campo azioni correttive. Ecco perché la riunione questa mattina, non solo con le ASL, con il sistema bancario, che deve essere nostro partner di seguirci sulle linee di risanamento e di attenzione a questa azione di risanamento, e nello stesso tempo con i prefetti, quindi il prefetto di Napoli, che ringrazio per la sensibilità, tutti i prefetti della regione sono stati presenti qui oggi con le forze di polizia e di sicurezza che hanno chiaramente seguito questo nostro ragionamento. Dobbiamo risolvere i problemi, io mi auguro strutturalmente, quella è la nostra richiesta. Oggi siamo riusciti a risolvere solo agosto e intanto ci dobbiamo prendere questo, questo piccolo avanzamento, ma noi dobbiamo risolvere il sistema perché non possiamo vanificare il grande lavoro che abbiamo fatto, io voglierei riconfermare ancora una volta a voi che noi stiamo parlando che il pregresso è ante 2010, il risanamento è post 2010. Prima del 2010, tant'è vero che c'è stata la legge che ha dovuto alzare la diga, è stata fatta proprio per il debito che era stato maturato prima del 2010 che noi abbiamo ereditato, abbiamo fatto il pareggio di bilancio nel piano di rientro, avevamo ricordato prima alzerato il 50% della situazione di debitore, abbiamo iniziato a pagare con regolarità i fornitori, farmacie, gli elogatori, sul corrente. Quindi avevamo fatto un'azione di risanamento, 80 giorni di ricupero di ritardo dei pagamenti, tutto questo ce l'ha stato permesso con quella norma. Rammarico che veramente mancavano sei mesi, però ho detto ora passato è passato, dobbiamo guardare al futuro e quindi dobbiamo continuare con maggiore tenacia, con maggiore forza, superando questo agosto, ma noi siamo qua a lavorare, quindi è chiaro che abbiamo già preso un appuntamento prima della fine del mese, quindi prima della fine del mese ci rivedremo per affrontare settembre, ma mi auguro non di risolvere un mese, ma di dare una risposta strutturale a questo problema. È evidente che noi stiamo parlando della salute dei cittadini, dietro questi numeri ci sta che se non eroghiamo questi fondi, cioè se le banche le tengono bloccate, le norme non ci permettono di erogare questi finanziamenti, le liti, le liti che vengono generate dagli intermediari, che generano lite perché si guadagna sulle liti, si spezzettano le fatture, si scontano in tutti i tribunali d'Italia, cioè se c'è un sistema in cui ognuno corre per fatti suoi, a pagare le conseguenze il cittadino è l'ammalato. È quello che deve andare in ospedale, è quello che deve andare in farmacia, è quello che deve andare in un erogatore per chiedere una prestazione e non ha la possibilità di avere gli strumenti di quelli che vengono definiti livelli essenziali di assistenza, cioè le condizioni minime per avere una sanità che funziona. Questo è il tema vero e di fronte a questo tema nessuno può fare un passo indietro né può girare la testa dall'altro lato.